Scusa ragazzi, ho finito un'altra risoluzione, mi mette per l'entrano o no? Ho visto che vedo l'altro, mi sa che si vada meglio a fine, sai? Sì, no? Quindi perché se no vanno, mi metti da via tu? Direzione Cava di Cipremi, da Mango che non vince. Cava di Cipremi Direzione Cava di Cipremi Direzione Cava di Cipremi Direzione Cava di Cipremi Lui si fanno sulla pietra, non si fanno la pietra, non si fanno la pietra. Direzione Cava di Cipremi A Cipremi Direzione Cava di 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 Cipremi Sì, vieni, vieni Oh, vieni, vieni, vieni Sì, chi lo vuole? Ah, guarda, che danno la caccia di scena un po' di dentro Non è un'altra mariana, che hai di scena Maschi delle rete, tipo 7 att dreams Qui ha seguito la differenza Così le rete pare i protecci di scena un po' diacia Потом, si risché un po' divere carele Ma hai avanti con l'acqua Eh, ikterla in terra guarda Conve parachutZio Convec dato che Kennedy Sì, è un po' dià Sì, 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 sì. dai cazzo suburnuta ehi che hai passato a parlare un'ottograzione Grazie a tutti. Grazie a tutti.